di affrontare diciamo sul web che sono le linee dentali ovvero la tipologia di denti che si può montare quando andiamo a riabilitare completamente la bocca. Quello che facciamo noi è riabilitazione completa della bocca ovvero noi non facciamo riabilitazione al policlinico di un paziente per esempio che deve allineare i denti, l'apparecchio, perché? Perché alcune cose va bene farle all'estero altre cose all'estero non va bene farle per esempio allineare i denti c'è bisogno di vedere il paziente una volta al mese per fare l'attivazione dell'apparecchio, uno non può prendere l'aereo una volta al mese quindi alcuni trattamenti sono preclusi a questo tipo di soluzione ovvero le cure in un'altra città o comunque sia distante. Quello che ho fatto tanti anni fa è stato il più grande, il più esteso viaggio che fosse mai stato fatto in giro per il mondo alla ricerca di quello che fossero tutti i crismi per poter curare un paziente in maniera completa e farlo in distanza. Qual era il modo più semplice di fare questo? Andare da chi già lo faceva. Ok non mi invento nulla, io non mi sono mai inventato nulla non ho mai fatto esperimenti, quando io ho dei dubbi vado da chi già li ha risolti. Che è il metodo più semplice che usano i grandi per risolvere i grandi problemi. Allora cosa ho fatto? Feci una ricerca di tutti quelli che erano i centri in Europa che facevano grosse riabilitazioni. Ok. Cosa scoprì? Cosa avevo scoperto? avevo scoperto per esempio la clinica Malò. Che vi faccio vedere qua. Clinica Malò. Clinica Malò che sta per esempio, loro stanno a Lisbona. Ok questa è la clinica Malò. Ed è fondamentalmente questa qua, che si vede qua non so, si vede a monitor, c'è un duplicato. E questi sono centri, per esempio il centro che ha inventato la tecnica all on for. La tecnica di mettere tutti i denti su quattro impianti. Ok. Questa persona, che era il dottor Malò, aveva tanti pazienti che avevano la dentiera mobile, però non ci avevano soldi per mettere tanti impianti dentali, per esempio otto impianti dentali, ricostruire. Allora aveva fatto uno studio che se lui metteva degli impianti inclinati dietro e due davanti, per il fatto che dietro i carichi masticatori facevano ruotare la mascella in questa maniera, gli impianti inclinati riuscivano a evitare di dover ricostruire il seno mascellare, erano sufficienti per mantenere un'arcata. Un'arcata che era di plastica, di dentiera. Lui che faceva? Prendeva la dentiera, faceva quattro fori e la bloccava sugli impianti. In maniera economica era riuscito a mettere i denti fissi a persone che erano poco ambienti. Ok. persone che non si potevano permettere qualcosa di complesso, però non volevano neanche la dentiera e aveva inventata quella che è stata poi diventata famosissima la tecnica, non è proprio Toronto Bridge, all on 4. Di sicuro avrete visto l'immagine su internet. Eccola qua. Questa qui è l'all on 4, che poi si mise assieme a una marca di impianti dentali che è la Nobel Biocare e inventò questo protocollo. Ok. Cosa successe poi? Successe che, vent'anni fa stiamo parlando questo, inizia ad arrivare da lui un sacco di pazienti. Ok. Involontariamente lui è stato uno dei pionieri nel turismo medico. Ok. Nel senso pazienti che si spostavano per andare a risolvere questa soluzione da lui, perché da lui era abbastanza economico. Poi in realtà una soluzione così con quattro impianti da lui sono 10.000 e 10.000. Quindi parliamo di 20.000. Ok. 20.000 qua da noi nessun paziente riesce a spenderli, perché abbiamo una tassazione diversa, siamo in una nazione diversa, non siamo in Portogallo e riusciamo a fare con la metà cose che sono il doppio, ma anche il doppio a livello di protesi. Perché vi ho detto prima che le protesi che vengono montate, per esempio su questa tecnica, sono delle protesi come vedete qua, plastica, resina. Ok, resina. Questo è il protocollo, ovvero con quattro impianti dentali non si possono usare materiali rigidi, perché se noi usiamo per esempio zirconio, metalli molto rigidi, già gli impianti nell'osso non hanno ammortizzamento, si va a scaricare tutto quanto sul telaio che sta dentro all'osso e c'è il rischio che la parte debole, ovvero la connessione tra l'impianto e la protesi, che è una vitina che passa in mezzo all'impianto, possono sembrare cose noiose, però è la base per capire poi tutto quello che vi dirò dopo. Abatment, impianto, ok. Ecco qua com'è fatto un impianto dentale, ci sono fondamentalmente i denti e poi c'è una vitina che è questa nera, che si vede qua, che è la connessione tra i denti, oppure una protesi di 12 denti e l'impianto che sta dentro l'osso. Se io ho denti rigidi in zirconio, l'impianto che è rigido nell'osso, l'unica zona di sollecitazione è questa. Fletti oggi, fletti domani, c'è il rischio che quella parte si rompe, si tronca. Se si tronca la vita dentro all'impianto, poi è un problema, bisogna carotare via l'impianto, ok. Allora, protocollo quale utilizzare delle protesi che sono, vi dicevo prima, che ammortizzano, stress assorbenti, quindi delle protesi morbide, resina. Se arriva il paziente a masticare cibi molto duri, meglio che si rompe la protesi, il dente, piuttosto che si rompe la connessione rigida della vita interna all'impianto.